Ripascimento a rischio per Pescara. Due le cause principali. La prima, la ridotta disponibilità economica messa a disposizione dalla regione. 80 mila euro per oltre 6 chilometri di costa. Basti pensare che solo lo scorso anno ne erano serviti 300 mila. Ma questo sarebbe il minore dei mali, spiega infatti Forza Italia, non ci sono i tempi. Scade infatti il 31 maggio, il termine ultimo per eseguire i lavori. E nel mezzo mancano ancora studi, caratterizzazione, bando ed altre voci che richiedono tempi molto più lunghi. Il fatto che sia tardivo l'intervento determinerà l'impossibilità di realizzarlo perché per via di una ordinanza della stessa regione tutti gli interventi devono essere conclusi entro il 31 di maggio. Siamo al 7 di maggio, in 24 giorni dovendo redigere il progetto, acquisire tutti i pareri, conferenze di servizio, appaltare i lavori, si capisce perfettamente che non ci sono i tempi più per garantire la realizzazione di un intervento che è importante. Quindi abbiamo il seguente quadro, a nord il divieto di balneazione, a sud non si fa il ripascimento, abbiamo introdotto anche la tassa di soggiorno, mi pare che l'accoppiata da Alfonso Alessandrini abbia prodotto una miscela esplosiva per la stagione balneare pescarese e quindi anche per la caratterizzazione turistica che questa parte di città ha in modo assolutamente rilevante. L'ennesima dimostrazione di un'approssimazione amministrativa sia da parte della Regione, che non è né facile né veloce soprattutto, è di un'amministrazione Alessandrini incapace anche di fungere in qualche modo da stimolo nei confronti della Regione.